... Vediamo questa staffetta dei 4% stile libero femminile Abbiamo il gruppo atletico sportivo in corsia 5 Inizia Martina Guariglia Partiti Cuffietta arancione, corsia numero 5 Si giocano questa staffetta con le più quotate avversarie delle altre società Più esperte, più anziane Le giovanissime della cassa ce la metteranno tutta Vediamo Martina chiudere questo primo 50 Ah no, sono 100 metri, 4% quindi sono 4 vasche Parziale 33, non si vede Martina in questo momento tiene bene il passo delle prime Si prepara sul blocchetto Sinopoli Allo scambio a 1'09 Ottima questa prima frazione di Martina, non vi alzate In vantaggio alla polisportiva Parziale tra la corsia 1 e la corsia 5 Leggermente in vantaggio la polisportiva con la corsia 4 Gorgia sta tenendo benissimo il passo delle altre ragazze Abbiamo la squadra di Reggio Calabria nella corsia 1 con Cuffietta arancione Viene fuori anche la Tubisidere nella corsia 6 Leggermente in anticipo Allo scambio si prepara Squilla c'è Sara Cecilia Scambio a 1'16 Vediamo Sara Cecilia In questo momento è in terza posizione Sara Tiene bene il passo delle versarie Sara Prima la polisportiva in corsia 6 Appassionanti queste staffette Altra virata via Sara In vantaggio la corsia numero 4 A seguire la corsia numero 6 Quindi Sara Cecilia in terza posizione Cerchiamo di tenere una gara molto divertente e importante per le nostre bambine Che si lanciano in dei tempi incredibili Si spera almeno Va lo scambio la polisportiva Va lo scambio la polisportiva E inizia adesso l'ultima vasca Le ultime quattro vasche la polisportiva Allo scambio Sara con Emanuela Emanuela, Emanuela pronta Partita Emanuela 1'16 E' 3 il parziale E adesso Emanuela si gioca a questa seconda posizione Adesso c'è la corsia 6 in vantaggio Questa prima vasca Allo scambio Emanuela Vediamo se riesce a spuntarla sulla polisportiva Cadanzaro Che nella corsia 6 Sta tenendo bene il secondo posto Va pareggiando in questo momento Emanuela circa due metri indietro Attenzione anche alla corsia numero 2 Che si fa avanti Ultime due vasche E tiriamo fuori questa grinta Al diavolo la febbre e il raffreddore Forza Emanuela Cerchiamo di tenere questo terzo posto Vai Emanuela Alla virata Attenzione alla corsia 2 Che si fa avanti Sprint finale Non ci facciamo superare E cerchiamo di fare questo podio Bravo Emanuela Tiene, tiene Sta tenendo Dovremmo fare un terzo porto Terzo posto E la gas ce la fa In questo terzo posto Nella saffetta Ale Terzo posto per la gas Ha superato la matematica Che ci dava Un quarto posto Ce l'abbiamo fatta Abbiamo perso anche la voce Brave a tutte e quattro le bambine Brave A terzo posto con il tempo di quattro c'è 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 quatt Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.